La guccia è imbattuta, Zimmerman per Martila. Va a cercare ancora Rossini in gabbetta a dare una mano, Bruno non supera la rete. Break di Monza. Un gruppo di Monza è decisamente più spuntato, Martila va a forzare su Rossini. La palla torna di là e Martila si porta a casa anche un ace. C'è che c'è. La bordata di Galassi, Rossini in qualche maniera, Bruno palla dietro per la guccia, praticamente senza rincorsa. E allora free ball per Monza, se la gioca Martila! La diagonale di Ghiaccio! Salsi per un gabbetta, la difesa di Martila su un gabbetta e poi il pillandese va ad attaccare! Salsi per un gabbio! Salsi per un gabbio! Salsi per un gabbio! Grazie.